Alzi la mano, chi tra noi non appena clicca sull'icona del proprio browser, cioè del programma di navigazione, si trova davanti a questa pagina, proprio quella che state osservando, Google. Google colosso del web, motore di ricerca, probabilmente il più noto al mondo, al punto che per i ragazzi addirittura diviene sinonimo di internet. Invece cominciamo a dire loro che Google motore di ricerca è una cosa, Google Chrome un'altra in quanto browser, programma di navigazione. Google offre numerosissimi servizi gratuiti e molto utili, ma la critica che da tempo gli viene mossa è che sia un po' troppo avido delle informazioni personali che, ricordiamolo molto spesso, liberamente noi gli forniamo anche tramite le nostre ricerche. Ed allora ci sono delle alternative facili da usare, comode e più rispettose della nostra privacy per fare ricerche su internet? La risposta è sì e in questo video ve ne presento due. La prima si chiama DuckDuckGo. Come vedete è sufficiente aprendo un qualunque browser dal computer o da un dispositivo mobile e digitare nella barra degli indirizzi qui in alto? L'URL, cioè l'indirizzo di riferimento, in questo caso DuckDuckGo.com. DuckDuckGo con questa simpatica icona a forma di papera che cosa fa? Si cura maggiormente della nostra riservatezza, ci consente di fare ricerche e non mangia i nostri dati personali. Guardate com'è semplice. Io clicco nella stringa di ricerca al centro, digito computer perché voglio sapere un pochettino qualcosa circa la sua storia. Premo invio sulla tastiera. Accendo con un clic l'interruttore Italia per poter vedere le ricerche esattamente come le vedremo su Google in Italia. Addirittura con questo interruttore posso gestire la ricerca sicura. Ad esempio con un clic posso avere una ricerca rigorosa e fare in modo che i minori siano assolutamente tutelati. Consiglio per i colleghi docenti. Ed ecco qui che senza accorgercene stiamo consultando il web ma non stiamo lasciando briciole in giro circa i nostri dati. Seconda alternativa che vi propongo, e qua strizziamo l'occhio anche al tema ormai importantissimo della sostenibilità ambientale, ecosia. Dici perché piantiamo qualche albero, Andrea, come mai c'è questa spiegazione? Perché ecosia, in questo caso ecosia di fatto è strutturata ad azienda, però ecosia, grazie alle navigazioni in rete che noi andiamo ad effettuare, va a destinare una parte dei profitti per piantare alberi. Pensate che bella finalità, piantare alberi nelle zone del mondo dove ce n'è bisogno e abbiamo anche questo contatore progressivo al centro che ci dice quanti ne vengono piantati. Se io scorro la pagina ovviamente possiamo osservare un pochettino la spiegazione della loro finalità, quella che le aziende chiamano la mission, e al fondo c'è anche un piccolo video che ci racconta che cosa succede, oltre che osservare come possiamo notare che la stessa ecosia, che così come Google, così come DuckDuckGo fa transitare comunque le ricerche su web in appositi server, cioè in cervellone, in questo caso vedete che la dichiarazione di ecosia è quella di gestire con energia ad esempio 100% rinnovabile proprio i server che fanno lavorare il motore di ricerca. Anche in questo caso andiamo un pochettino a vedere come possiamo fare, riga di ricerca al centro bianca, computer, invio sulla tastiera, in realtà come potete vedere forse ancor più che DuckDuckGo e cosia è similare a Google motore di ricerca. Abbiamo la possibilità di ricercare all'interno del web per immagini e altre categorie, la possibilità di cliccare su filtri, ad esempio vedete con una tendina per migliorare l'arco temporale di ricerca, la possibilità di cliccare su impostazioni, icona dell'ingranaggio per selezionare, cosa che in questo caso è già pronta in automatico, ma io sono andato a ribadire, la regione, cioè il paese di ricerca. Ecco che allora, vedendola in quest'ottica, ci rendiamo conto di che cosa? Che internet è di tutti e che internet vive e migliora grazie ai nostri comportamenti. Ricordiamoci allora, spesso e in tutta la nostra, durante tutta la nostra vita digitale, di saper scegliere e di voler conoscere sempre più per mettere in atto questi comportamenti virtuosi, anche con una semplice ricerca sul web. Un caro saluto da Andrea Cartotto e l'augurio di una buona serata.